Rieccoci con il nostro appuntamento in dialogo con l'Europa. L'Europa per molti è un oggetto misterioso, è sicuramente un progetto incompleto, è un qualche cosa di molto lontano. La sfida è come avvicinare le istituzioni europee, perché l'Europa siamo noi, sono le persone, le istituzioni sono spesso invece lontane. Come avvicinare le istituzioni ai territori e alle persone? Dare un volto all'Europa. Questa è la sfida. Con me ci sono dei giornalisti, direttori dei settimanali diocesani del territorio dell'Emilia-Romagna, che aderiscono alla Federazione Nazionale dei Settimanali Cattolici. Sono persone che tutti i giorni vivono la quotidianità, le sfide del territorio. Sono compagni di viaggio dei cittadini. Quindi a loro chiedo consigli come insieme vincere questa sfida di un'Europa che oggi è troppo lontana. Francesco Zanotti. Francesco Zanotti, direttore del settimanale Corriere Cesenate, della diocesi di Cesena-Sarsina. L'onorevole Zoffoli ci ha fatto toccare con mano la realtà del Parlamento europeo. Sembra una realtà lontana per i cittadini, anche del nostro territorio, della nostra regione. In realtà abbiamo scoperto ancora una volta di più e siamo qui per ribadirlo, che invece tutto quello che ha a che fare con noi e anche con i nostri territori viene deciso in queste stanze. Quindi ci riguarda. Quindi l'Europa è a casa nostra e noi che siamo operatori nei mezzi della comunicazione sociale dobbiamo fare in modo di portarla a casa nostra per far capire che tutto parte, se non tutto, molto parte da qua. Questo è il nostro compito. Andiamo a casa con questa convinzione in più. La parola a Silvia Di Carpi. Sono Silvia Cabri, settimanale Notizie della diocesi di Carpi. Io mi associo a quello che ha detto il collega Francesco. Quello che abbiamo percepito e ci è stato trasmesso è proprio questa necessità di portare nelle nostre state locali, quindi nel territorio a cui noi diamo voce, questa dimensione europea. quindi non pensare che i grandi temi, i grossi problemi globali abbiano una dimensione troppo lontana da noi, cioè vederli come qualcosa di troppo estraneo. Trovare, diciamo, l'aggancio per uno sviluppo a livello locale. Trattiamo un tema in migrazione, cerchiamo allora sempre il collegamento su quello che viene fatto a livello europeo. Io vi ringrazio e passo la parola al mio collega Matteo. Siamo Matteo Pirazzoli, del settimanale di Imola, il nuovo diario messaggero. Come dicevano i miei colleghi, stiamo toccando con mano un'istituzione dell'Europa che è fatta dagli europei, quindi da noi stessi. La sfida appunto è quella di portarla nei territori dove tutto parte e tutto torna. L'Europa, basti pensare, la troviamo nelle persone che sono venute nei nostri paesi, nel scambio di lingue, negli studi, anche in tasca quando abbiamo l'euro in mano. Ecco, noi come operatori della comunicazione locale e la sfida da cui portiamo a casa è quella proprio di tradurre le scelte che qui si compiono in quelle che sono poi le azioni che ci toccano tutti i giorni. Prego Giulio Donati. Salve, sono Giulio Donati, direttore del settimanale Il Piccolo di Faenza, collaboratore anche del settimanale Risveglio di Ravenna. Le tematiche che abbiamo affrontato in questa occasione qui al Parlamento europeo sono particolarmente importanti per tutti. Ci toccano da vicino e a volte sentiamo che l'Europa è lontana su temi come le tasse, come i rifiuti, come la questione delle migrazioni. Abbiamo sentito un'Italia letta come sola ad affrontare questo tema e vorremmo capire meglio, abbiamo capito alcune cose, ci sono difficoltà di rapporto fra Parlamento e Commissione, vorremmo, auspicheremmo, che questi passaggi venissero superati e ci fosse una realtà, una comunità davvero di Stati che riesce a stare al passo con la modernità. Abbiamo colto che l'Inghilterra ne è uscita ma si piange un po' addosso anche se non lo dà a dimostrare, del resto i dati sono sotto gli occhi di tutti. Vorremmo capire appunto come la comunità può servire meglio prima che altri abbiano cattive idee e abbandonare una nave che invece è buona per veleggiare nel terzo millennio. Bene, mi pare che conveniamo tutti ripartire dalle persone, dal volto delle persone e dai territori. Cioè l'idea di un'Europa come un soggetto altro da noi, gendarme, dei conti pubblici, con cui noi andiamo a contrattare ogni mese, ogni anno, i bilanci nazionali, è un'Europa che non ci piace, è un'Europa che non piace soprattutto ai nostri cittadini. Quindi cerchiamo anche di far vedere l'altra faccia della medaglia. Abbiamo tanti problemi, abbiamo tante sfide di fronte, ma ci sono anche opportunità che non sfruttiamo, che non conosciamo. Quindi ci vuole un'alleanza fra tutti chi si occupa di comunicazione, di informazioni, per fare vedere le due facce dell'Europa. Quella che ci dispiace la vediamo tutti i giorni. Quella che ci piace la dobbiamo certamente costruire, ma la dobbiamo anche comunicare. Questa è una sfida comune e su questo vogliamo lavorare insieme.